bentornati tutti quanti in questo mio nuovo video in questo video vedremo tutta la mia collezione inerente a terminator quindi tutte le le mie limit edition anche i miei dvd e i miei blu ray allora vi dico subito che alcune edizioni le vedrete aperte ma altre edizioni le voglio tenere sigillate ok siamo arrivati partiamo subito con questo cofanetto in tiratura limitata l'avrete visto anche nella filmografia di arnold schwarzenegger vedete tiratura limitati in 10.000 copie contiene i primi tre capitoli nella saga anche oggi mi scuso per questo maledetto riflesso ma se voglio fare i video qui di sopra devo fare i conti anche con questo riflesso qui troviamo le caratteristiche di ogni dvd il cofanetto ne contiene quattro fermi netto per meno del giudizio terminator tra le macchine ribelli che poi c'è un disco di contenuti speciali in mezzo troviamo questo libri cino ok ok continuiamo con il quarto capitolo della saga terminator salvation questo titolo a me questo capitolo a me è piaciuto parecchio in dvd non sarà al massimo più avanti magari comprerò il blu ray magari se facessero un cofanetto con tutti i capitoli della saga compreso destino oscuro sarebbe una bella cosa qui troviamo terminator genesis blu ray e destino oscuro ancora non l'ho comprato e quindi passiamo a questa edizione di terminator questo in edizione portoghese con questo jacket questa giacca tutta in pelle questo lo comprai anni fa su ebay da un ragazzo di rimini lui collezionava tutte limite edition di terminator questa edizione come ho detto portoghese fatta da un artigiano a mano io andai a vedere all'epoca mi disse che c'era un video inerente a questa limite edition su youtube e me lo andai a vedere e potete trovare se andate a curiosare come è stato creato molto bello con la sua zip si tira giù funzionante anche nei dettagli fatto bene e all'interno troviamo il dvd tombola ovviamente qui la lingua italiana niente sempre dal ragazzo di rimini comprai anche questa edizione con questo cofanetto in metallo con la testa del t800 in rilievo questa è un'edizione australiana e all'interno troviamo i tre film in dvd terminator terminator 2 il giorno del giudizio e terminator 3 le macchine ribelli niente da fare vengo riflesso pure io sulla confezione anche questo qui è un bel pezzo che non tutti hanno come i jack che vi ho fatto vedere prima anche questo sono in pochi collezionisti ad averlo è abbastanza raro bene ed ecco che passiamo a questi limit edition di terminator salvation anche questa acquistata sempre su ebay e sempre dallo stesso ragazzo e questa è la limit edition è una scala edition del t8 e t800 in questa edizione è tedesca andiamo a vedere la scatola perfetto adesso andiamo ad aprirla ed eccoci qua l'abbiamo estratta è un po incasinata adesso qui non la cavo da questo supporto di plastica perché dopo un casino mettergliela comunque fatta è fatta molto bene direi anche abbastanza pesante mi aspettavo che pesasse così tanto andiamo dalla zucca che è meglio evitiamo di romperla questa è la base e qui dietro troviamo l'alloggio per il blu ray l'unica cosa che mi lascia un po perplesso è questo è questa custodia marei così senza una copertina senza niente mi avviso un po un po una cagata diciamo all'interno ecco fanettino troviamo il blu ray dvd e coppia digitale questo il codice per scaricarsela ovviamente non mi interessa perché cosa l'edizione italiana e quindi presa proprio per per la testa di questo t 800 troviamo la scritta terminato salvation perfetto passiamo un'altra limite eccoci ad un'altra edizione edizione italiana di terminato genesis dove all'interno troviamo il blu ray 3d con questa piccola endoscale veramente piccolissima anche questo quando usci su amazon la pagai veramente una cavolata adesso la vedo anche su ebay a volte presti che sfiorano i 100 euro per me troppo veramente troppo 100 euro sono tantissimi per un'edizione che poi alla fine è niente questa edizione la è chiusa e non la apro effetto passiamo un'altra edizione di terminato salvation con la moto anche questa edizione è chiusa e rimane tale come ho detto in video precedenti quindi forse mi stuferò di tenerle sigillate anche perché per adesso non c'è idea non c'è il pensiero di di venderle anche se con i tempi che corrono possono diventare una risorsa di denaro anche se dubito che mai le darò via questa edizione in dvd è uscita diversi anni fa e se vi dico cosa l'ho pagata vi mettete a ridere poi delle volte me la ritrovo su ebay a dei prezzi veramente alti ma secondo me non li vale anche se comunque è bella io l'ho pagata 9 euro 90 ragazzi sì 9 euro 90 in un comet e diciamo che per quello che ho speso è stupenda perfetto passiamo un'altra limited ed eccoci qua alla all'endo arm di terminator 2 il giorno del giudizio questa l'ho presa dall'inghilterra mi ricordo quando diedero il pre order era veramente entusiasto di questa a mio parere bellissima limit edition di terminator 2 uscì anche in america mi sembra mi pare che usi per il mercato americano e per il mercato britannico ok adesso la andiamo ad aprire e andiamo a vederla ok ho aperto la scatola vi volevo far vedere cosa c'è all'interno e qui troviamo subito un libretto di istruzioni di questo ando arm dove dice che è facile inserire il braccio all'interno di questo tubo dopo andremo a vedere di infilargliela subito sotto troviamo il film in blu ray addirittura anche il 4k quindi 4k blu ray 3d blu ray se uscisce in italia un disco così sarebbe il massimo andiamo a vedere adesso ed ecco ragazzi sono riuscito a cavare tutto il tubo tutto l'involucro tutto quello che lo proteggeva e devo dire che è veramente lo possiamo dire una figata pazzesca mi alzo un attimo di plastica ma fatto fatto veramente bene edizione 1200 copie questa è la 498 con la firma di james cameron è bellissima sono proprio bocca aperta stupenda 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 anche i particolari sembra proprio che il t600 voglia ferrarmi bellissima la metterei al primo posto come la limited più bella che abbiano mai fatto su terminator perfetto ed eccoci qua all'ultima edizione quindi l'ultimo pezzo di questo video non è altro che la testa del t600 anche questa è un'edizione italiana direi un'edizione adesso abbastanza costosa e per questo motivo lo tengo questo agli occhi che si illuminano e dovrebbe mettere anche dei suoni anche questa è una bellissima edizione tra le due teste forse questa rispetto al t800 il t600 è fatta meglio tra le due se la giocano tra le più belle se la giocano la testa del t600 e lendo arma sempre mettiamo vicine perfetto con questo ragazzi io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti